e ciao a tutti ragazzi oggi ci troviamo su The Division ancora in coppo con che vuoi dire i nomi? The Gamer 1880, Lara Padawan e come sempre noi Dark and Claw Ciao! Che c'è? Non hai fatto l'animazione brava 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 dai che oggi andiamo alla zona nera bene 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 infatti la zona super nera come basta come basta è quella la cosa assurda di oggi guarda che io faccio gli esercizi con io posso far volare i i pinguini damose non mi ci ha messo a posto il bug vabbè damose 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 dov'è la strada chi è che sa la strada? e qui abbiamo il navigatore umano dov'è il gps? andiamo qua qui qua qua dove andiamo? abbiamo lo spostamento rapido è il posto di blocco quello in basso adesso aspetti che io prendo persona aspetta 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 roba verde in fronte a noi andando verso l'est c'è un posto di blocco subito leggermente sotto dì il nome del posto di blocco così capiamo vabbè tu vai ZN1 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 non lo trovo ZN1 vai che io ti raggiungo vai ma possiamo fare lo spostamento rapido eh? eh dai eh tu vai che io poi clicco su DT è giusto è vero ah hai capito vai vai oh guardalo lì perché non ce l'ho io quel posto lì? ma perché sei ah questo vabbè uguale spostamento rapido su lì spostamento rapido dai vengo fermo raggiungo dei gamer 1880 attenzione tec tec ma c'è una pausa nella zona nera che lampeggia sulla destra non lo so c'è una zona con una gialla che lampeggia ah ci sarà uno scontro mh interessante no è una zona di estrazione ah no si sta facendo uno scontro bene cosa vuol dire una zona di estrazione? eh qui quando prendi i materiali devi farli estrarre se no non puoi portarli fuori perché devono essere puliti tac tac e entriamo cos'è che esploso qua? c'è già un cordello eh allora siamo finalmente in qui qua eh qui si e più fai male agli altri più vieni visualizzato in modo negativo e gli altri si uccidono più facilmente esatto trasmissioni detturbate solo comunicazioni a corto raggio Fogliore G36 oh vediamo senti che bordello oh mio dio minchia minchia stavo già spaccando tutto fuggiamo fuggiamo ma io non vedo nessuno raga sono a sinistra però posso dire che occidenti adesso vedo tutti tutto il mondo qui è perché c'è una estazione? stanno estraendo oppure c'è una... gente, gente attenzione, la gente non ostila, la gente non ostila attenzione un super fucile di precisione aspetta vedo una torretta ma non la posso acchiappare perché... era nascosta dietro il muretto no, è vangata, non c'è proprio boom ah perfetto vabbè, noi non dobbiamo... quindi andiamo avanti, va? dove andiamo? di là? di qua? di giù? andiamo di qua, andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua, andiamo andiamo andiamo, vai eh sì eh andiamo se la mossa attenzione che di qua in genere sporano sempre i nemici eh mmm vanno i nemici? non lo posso dire, eccoli la, eccoli la attenzione, attenzione attenzione, attenzione mannaggia sti viola, oh ah ma guarda, guarda, oh, guarda che tosto è ma si picchia da soli? lei è mort, lei è mort ha sponato verde vado a prendermi il verde no, non posso c'è un incendiario non vedi boom l'incendiario è andato l'ho seccato ce n'è un anche il mirino un ingegnere là il mirino sulla mitraglia ok diventa una cazzutissima bene, andato, andato c'è un blu mi prendo il verde, mi prendo il verde attenzione quanti da avventura eh che avventura quanti balistici, quanti balistici damose 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 ho trovato 106 fonti zona nera eh ah io quanti ce n'ho aspetta un attimo, scusate bella domanda vediamo qua che c'è il pugnitore comunistico oh, 1311 ahah c'erano 1311 ok ok non c'è un cazzo di nessuno nessuno vuoto vuoto qua non c'è neanche civili da delle guardie vediamo se ogni tanto faccio il burb burb per vedere se c'è qualcuno l'area si arrampica minacce c'entra guarda attenzio oh, attenzio, 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 c'è un cecchino qua eh eh è giallo eh damose no, spacchiamolo vai come spacchiamolo? ah è andato minchia lì siamo forti attenzione c'è un cecchino c'è un cecchino c'è un cecchino c'è un altro dove? un altro lassù in alto aia 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 sto morendo sto morendo sto morendo sti cazzi su bombete bombete sulla sinistra arriva c'è uno strano ci corri contro oh poca una paletta guardaci stracci ma chi è che mi sta sparando? no cazzarola via via qua che c'è la cura dai ma comunque si spara una riprenditora stiamo circondati c'è un blu c'è una roba uuuh circunnavigati attenzione ci circunnavigano damose oh oh mi sta sparando da qualsiasi sopra mi hanno ucciso mi hanno ucciso no ma ha ucciso pure a me no che figura di merda ma che fegorone niente morimo male dai dato eh tanto si ti andiamo premuto per mollare sta scuola ma che stai facendo stai morendo stai morendo faccio arachiri oddio eh adesso dovremmo scegliere la zona no? prima che sbagliamo facciate i pubblici persi facciate i pubblici persi una chiave zona nina 455 punti perso una chiave nooo pure la chiave ho perso eh si perde anche quella per forse per forse mori zona n1s o zona 2 v eh guarda io ho schiacciato il primo ok 199 oddio non vale ma non vale così però ma non fregato una chiave tac fregati tac boh possiamo riandare aspetta un attimo aspetta un attimo va ma che stai facendo d'arco ho preso la roba si oh oggetti versi ragazzi no Lara non fare come ultima volta aspetta no no aspetta vieni qua vriatevi ce li pigliano ce li pigliano devo andare ce li pigliano no Lara ce li pigliano ce li pigliano devo andare è il mio istinto animale il problema è che poi l'istinto animale ci fa diventare delle carcasse come al solito no cos'è questa perchè c'è un invito quel no qualcuno mi vuole invitare no 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 eh beh come no 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 non voglio nessuno in party dai come sei la sociale no 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 se siamo sociali no magari ti vuole invitare Lara magari ti vuole invitare a una super festa no 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 magari ti vuole invitare a una super festa all'anima dai famoli secchi mortacci stracci dove ne mori tutti vai dentro famoli secchi oh mio dio sono incastrato chi è che c'aveva i guanti malistici? i guanti? ok so qua eh ti rilascio lì chi è sto qua con noi? bella 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 madò sto morendo madò come stai morendo? no Lara è la tua impressione no è stata morta no porca tu una buzzola è buzzonita ecco arriva il medico da campo dai eh ehm bella che fuori ragazzi quanti palistici di chi erano questi? tuoi hai detto te adesso tutto l'acqua mi hai detto ma che sei? l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso non è che ci attediscono dalle spalle attenzione 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 non penso allora metto la torretta c'è un altro robo blu lancio le bombette oh Lara vai dietro lì stracci stracci dove sei? c'è quel guai che è morto io lo lascierei morto no no vieni qua vieni qua vieni qua ma è in gruppo con voi quindi? tiralo su che poi vi do la mandata una cura no non è in gruppo è solo che è qui ah è solo che tra le altre no ma ci sta aiutando ci sta aiutando eh non ho più cose per curarvi perché la zona nera non è un tutti contro tutti vengono formate due squadre no e siamo tutti però c'è il pv c'è aperto uno vuole ucciderti ti uccide e quello lì ha scelto di aiutarvi invece che uccidervi si beh non gli conviene perché siamo in tre contro uno non gli conviene perché sennò si c'ha tutti quelli che stanno dentro c'è un blu c'è un blu c'è un blu c'è un blu anch'io lì sul camioncino e voi come mai non l'avete ucciso appena l'avete visto mi sa che questo ah no perché poi dopo noi diventiamo rogue e tutti tutti quelli che stanno qua ah una ragazza hai capito certo certo esatto certo certo si no fermi vi siete divisi Lara va da una parte ricca dall'altra me capi dai ed è qua dai si chiamo ricco no 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 lo so per me lo stesso dove siamo? siamo lì e seguite me andiamo dai alla collegiatria guarda oh la collegiatria è molto meglio guarda tutta un'altra cosa io penso di meno eh cioè è proprio scientificamente provato attenzione che qui in genere c'è molta gente ma c'era anche la zona dove? dove? a sinistra a sinistra c'è anche una torretta a sinistra ma sono sotto la nel parcheggio sono sotto sono sotto ah ma vaffa allora allora siamo in zona di estrazione se non sbaglio sì io direi di estrarre dai eh aspetta un po' prendiamo qualcosa altro che c'è di viola qua eh che viola? c'è di viola qua facciamo un po' di uccisione ma è mezzo morto salto con le giardie alle macchine c'è giovanista c'è giovanista c'è giovanista sta piazzando torretta dai eh giovini dai eh dà appena mozza a svegliere ma con chi ce l'hai con l'arco? no c'hanno quei nemici oddio cos'è ah figo giovini passi mentre spara sei rischioso proprio oh dato verde roba verde anche se a me non ha droppato niente sto maledetto sto maledetto come ci si arriva lì sopra? eh micchia il giro lungo chi è? chi è? sento nemici ahhhh ahhhh oh madonna oh madonna damose damose no ci voglio damose damose aiuto Rick viva 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 aspetta che arrivo no non riesci che Lara è tutto sulle tue mani pallone e un'altra chiave guarda le cose che ho perso nooo la golza blu Il MP7, il full classico e il mod armi da fuoco riqualificato Madonna, madonna Rientriamo di nuovo Z2S Sì No, no, ti prego Ma non si può, ma non si può morire a sta maniera Mondo gay Ma che devi scoprire? Ma che devi scoprire la divisione? Non possiamo permetterci che i sopravvissuti delle fazioni mettono le mani sulle scelte Il perché degli sganci è quello mi fuori Oggetti persi, oggetti persi Corri, dove? Andiamo, corri, 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 sbrigate, sbrigate, dai Non è che siamo a 120 metri, ce la facciamo abbastanza in tempo Oh, però il giallo bisogna seguirlo da lontano, eh Eh, uh, guarda quanto è la nostra roba là Eh, sì Eh Qualcuno distraga il giallo Sì, ma c'è qualcuno secondo me che... Se ce le vuole fare, eh, ce le vuole fare sicuramente Io li vado a prendere Eh, prenderli Però non tutti No, ups Eh, poi facciamo scambio dopo perché se no qui è un casino perché mi sa che il mio era questo Eh, no, non è neanche questo Oddio, no, il mio era questo Oggetto rubato a tarco Oggetto rubato a tarco Io ho preso la mia roba e ho preso un drop di vostro, mi sa, poi te la ridò Oddio, guarda che bug è questo, io lo vedo, vedo il fucile che vola Io vedo lui che vola Non è vero Che vuoi, eh, giovani, sia calmo, giovani, eh, non minaccio Ma continua a invitarmi, gente, no, non voglio Oh, aiuto, aiuto Vai via, che l'è pieno Ma vai vai, oh Damose, damose Io butto le mie fedeli bombette più Eh, brava, va, ricaricatelo a posto qua Ok, sta sparando la torretta Dai, li fanno secchi, li fanno secchi Oh, sono forti sti qua Eh, sono giallo Guarda questo Guarda questo Non è solo giallo, tutto forte Oh, questo qua fuori Questo qua fuori Questa è un po' di spianza Sto morendo, sto per morire Eh, non, 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 posso tirarsi su Ok, grazie Ma morite male, maledetti. Mannaggia, non lo sa ancora niente però. No, ma io muoio di continuo, ma com'è? Non va bene. Bombette, bombette. Un'altra volta la torretta. Sono rimorso un'altra volta. Sono qua io, sono qua io. Quanti sono rimasti? Non lo so, vado dentro a vedere. Ma il gigante si è dato? Penso di sì. È stato dato o è morto? Morto? È morto. Che c'è qua dentro? Ma non è morto. Perché secondo me qua dentro ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Lei dice, lei dice. Oh, io ho trovato una scatola con dentro roba blu. Io sono pienissimo. 16 di 47. No, da quando ho così tanto inventario? Ah no, 8 di 8. Fermi, io sono pieno. Eh. Comunque sento un movimento qua sotto. No, io ho 4 di 8. Cerchiamo di non perdere la strada. Ah, forse perché... Al centro di estrazione. Eh sì, è meglio. Non rischiamo troppo sto giro. No, no. No, no. Dove siamo entrati? Eccomi, ecco. Sbacciamo. Aspetta, vediamo il punto di estrazione più vicino. Vedi quello più vicino. Era qua vicino comunque, a sinistra, mi sanno erro. Allora, adesso da qua. Annamo. Annamo. Annamo? Daie. Daie così. Uh, c'è la roba verde baggata lì sopra, che non so come c'è arrivato. Eh, non si riesce a prendere quello lì. Ma sì, è verde. Dovebbe essere un ricavamento d'abbigliamento d'arco. Che fai? No, no, è verde, non è blu. Oh, 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 oh. Oddio, 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 oddio. No, no, ma stavano scappando. E da che cosa? Non lo so, io ne ho dubbio. Visto che deve mandarti lì, non sai com'è. Andiamo lì, andiamo. Sono in conflita fuoco, andiamo dietro, andiamo dietro. Questi qua stanno da guardare avanti. arretriamo arretriamo damose proprio damose proprio 15 stella doppia con il grado siamo pazzi ma scusa ricche abbiamo detto di non rischiare ho capito la strada questa andiamo davanti a parte si 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 ma cosa contro comunque no dove sinistra di qui lara di qui stanno sparando ragazzi corri lara o mio dio invece un'uscita lì ma si riesce la zona della stazione raggiunga girare gli sganci di rifornimenti sono terminati non possiamo più usare la roba no non possiamo uscire di qua non c'è non c'è una direzione porca macca bisogna passare per forza di là e se ne prendiamo un altro posto ma scusa allora andiamo oltre ci ha visto ci ha visto fuggi di cosa ti è successo ma chi aiuto aiuto sono quelli di prima sono giù eh sì però ora che sono chiusi nell'angolo lì potremmo ucciderli vuoi provare davvero sì prima che arrivano però che stanno uscendo piano piano gli ho bloccato la granata però non si è fatto un cazzo no no gli ho tolto quattro cose bianche no no vanno 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 giù vanno giù di brutto uno è andato dai ma no ma sono sfigati con le buon grade dai c'è qualcuno lì che è un incendiario si sta uccidendo la sua ha fatto tutto lui ha ucciso tutti lui guarda il cecchino eh questo è tosto eh mi sa ma c'è ancora sto qui aspettate che adesso lo centro io io ho il cecchino va sto centrato lo ho centrato boom possiamo passare preso sto morendo sto morendo 7 di 7 ora in più abbiamo qualcuno chiaro che si è accotato c'è una destrazione dobbiamo fare è un po' c'è 7 oggetti sono io 8 ce l'ho d'arco oh 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 chi è? c'è un brick brick attenzione brick malissimo ma che cos'è? è inviperito torreta torreta no non ti sto prendendo per i punelli carissimo ti sto prendendo a pallotto ok via roba blu non posso prenderla che pall? eh neanche io la prendo la roba la prendo io la prendo io la prendo io no ha due cose blu cos'è? zaino d'avventura e mirino qui beh proprio mi sa che è diverso dal vostro cosa vuole sto giovanista? si è accotato vuole rubare la roba allora andiamo a stare andiamo a stare alla fine per uccidere sto qua abbiamo fatto un giro della pubazza questo non posso prenderlo ma io posso buttare via roba che ho preso? perché li tutta? eh perché vabbè perché il drop lo vedo ancora qua arrivo di qua Lara di qua sinistra 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 gira ma scusa ma noi siamo arrivati da lì eh appunto dobbiamo andare di qua infatti siamo venuti qua per ammazzare i tiri ah c'è un'elicottero? siamo in un'zona vicino contaminata eh lo sento dov'è? 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 l'estrazione? l'estrazione? 120 metri 120 metri sì 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 possiamo andare preparatevi l'hanno già chiamato l'hanno già chiamato e allora mi sa che dovremmo fare più turni a me ce ne facciamo un po' dai io aspetterei che dai ah oh elicottero in arrivo no lo o o o o o o o o o Grazie a tutti